Ciao ragazzi, sono sempre io. All'oggi siamo su Minecraft FTB. Adesso facciamo una bella rubetta, un generatore di cobblestone, adesso devo mettere solamente la lava, qui siamo a posto, ho preso l'altra lava, chissà se mi basterà, ed eccoci ragazzi, abbiamo fatto, ho costruito intanto la base per il nostro generatore cobblestone, adesso facciamo altri macchinari che ci serve estrarlo. Allora, allora, noi ci serve l'argilla, per fare questo, l'alloy forneis, che si fa questo, che si fa il mattone e si fa quell'argilla. Adesso io ho già l'argilla, l'ho già presa in precedenza, e adesso andiamo a fare i mattoni, prima a cucinarli. Adesso aspettiamo che cuciniamo, dopo si fa il mattone e si fa quattro così bene. no, ci serve nove. No, di tanto che aspettiamo, facciamo un altro materiale. Allora, noi ci serve anche questo qua. Blocco. No, scatola. Eccolo qua. Il Blocco Brinkard. Si fa quella qua. Questo si fa così. Allora andiamo adesso a dover avere la redstone. Oh yes. Questi lasciamo qua, tanto mi servono. Ok. Adesso la, questi qua, ho messo un piccone di ferro. Il ferro ce l'ho qua. I stichetti non ce li ho però. Allora vediamo un picchetto. Ok, ci facciamo. E se li prendo sarà che bello. Bastano due. Ci facciamo i stichetti. E ci facciamo un piccone di ferro. Poi abbiamo detto questo qua, che si fa con tre legna, un ferro e una cobblestone. Allora, legna devo prenderla. Tre bastano. Allora, tre qua su. Poi non mi ricordo più. Ok. Qua va quattro le cobblestone. Un ferro e una redstone. E abbiamo fatto questo. Adesso noi furbamente facciamo imparare. in realtà smutessio. Ok. Noi ci servono. Facciamo sei. Ok. Adesso. Per fare questo ci vogliono sei di cobblestone piccone. Ok. Ok. Intanto sono due. Adesso facciamo due. Poi c'è il ferro. Poi c'è il ferro. Dove va? Il ferro dove è sul posto? Ok. Ci vuole questo. Uno. Uno. E due. Per il ferro. Per il momento. Adesso ci facciamo altri stichetti. Stichetti. Facciamo due. Facciamoli. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Uno. Ora posso fare. Ok. Adesso. Spero di primo altro ferro. Qua. Qua. E non chiesto. Ok. Questo ci perché. Ok. ok ci vediamo dopo che ve lo metto in miniera e ritorno a dopo rieccoci adesso ho preso due giusti per il numero ci facciamo un altro piccone qua adesso ci sono altri due di questi 1 2 3 4 5 6 almeno per 4 ce l'abbiamo 1 e 2 adesso ce la faremo imparare anche questo che non se lo impara ovviamente figuriamoci vabbè adesso andiamo giù in precedenza ho preso anche fatto anche pneumatic tube ma non devo fare anche altre robette adesso si ricordate allora devo fare anche un timer eccolo qua vabbè quando ho finito fare il timer riprenderò a dopo eccoci qua ragazzi con tanta fatica ho fatto il timer adesso avremo adesso ho messo anche una leva ok non devo tornare più non più non più a bocci no adesso ho messo anche un'altra cosa è una leva e una leva adesso andiamo giù se arrivo posso grazie adesso noi ci piazzicheremo questi qua per il momento 4 dopo faremo altri in questa maniera ancora un'altra leva più avanti adesso con il cacciavite li dovremo girare con la faccia grossa all'in giù ok qua ci metteremo la resta anzi no anzi no anzi no dobbiamo fare in questo modo qua ci ho altre no no ci ho altre rieccoci adesso piazzicheremo un blocco del rieccoci qua sennò non ce la facciamo adaccorrente a tutti per la parecchiatura qua dopo ci piazzicheremo ma così così ok adesso saltiamo via metteremo una retta qua una qua una là una qua e una qua qua ci metteremo la leva la leva e qua questo qua adesso altarezzo qua che dove funzionare eccoci qua e la nostra per fare la nostra bellissima pietra l'ho fatto adesso dovrebbe andare tutta qua dentro e qua noi potremo per esempio piazzichiamo un diamante se trovo e ci fa tutta delle pietre preziose dei minerali piazzico qua e qua comincia a fare tutto come vedete va avanti vabbè ragazzi per adesso è tutto ci vediamo la prossima volta ciao a tutti